Lo scorso anno furono in 500.000 i partecipanti alla Notte Bianca del Vomero. Sabato prossimo, 11 ottobre, si replica dalle 18 del pomeriggio alle 3 di notte, con molte novità e grande attenzione alla sicurezza, per un programma che coinvolge numerose associazioni e soggetti privati del settore commerciale presenti sul territorio. Ricominciamo dai talenti, ricominciamo dai giovani, ricominciamo al grito no, al racket e sì al consumo critico e consapevole. Tutto questo va detto ai cittadini, va spiegato, è a costo zero. C'è l'amministrazione comunale, l'amministrazione municipale, non investe un solo euro. Tutto questo è fatto grazie all'intelligenza di un team che ha saputo lavorare, che sa raccogliere esperienze positive, commerciali, imprenditoriali, artistiche, che si cimentano per migliorare un quartiere, che poi è un quartiere, una città, 120.000 abitanti. Tra Piazza Medaglie d'Oro e San Martino, tra la Renella e il Rione Alto, dunque, concerti, artisti di strada, esposizioni, sfilate di moda ed un cuore gastronomico ad Antignano. Due appelli. Quello di utilizzare i mezzi pubblici, perché i mezzi pubblici funzioneranno fino alle 4 del mattino. Il secondo appello è soprattutto rivolto ai giovani. Noi crediamo, come dire, e non vogliamo fare i bacchettoni, che si può bere, si può bere una birra. È piacevole, lo si fa con gli amici, lo si fa stando insieme. Ma il bere consapevole aiuta a divertirsi senza compinare guai. Un evento di forte connotazione sociale, partecipativa e anche di straordinaria varietà, visto la differenza di eventi che vengono messi in campo e che vengono proposti. Degli eventi e delle iniziative che, devo dire, abbracciano tutti le età, dai bambini di 6 anni con, diciamo, laboratori interattivi, musica e concerti di ogni tipo. Quindi realmente adattabile ad ogni gusto e ad ogni età. Strutturato, organizzato e alla portata in linea con gli eventi di tutte le città internazionali.